What's up signori sono Scipio e benvenuti in questo video in cui mi dovete perdonare ma non ho saputo resistere Nelle scorderie che ho fatto pomeriggio mi sono trovato questo tizio qua, il monster, che dice ok, io ho rubato tipo 80.000 di soggiorno 3 e neanche lui ce l'ha fatto a resistere e io quando vedo un troll proprio non ce la faccio, quando vedo un troll mi emoziono e poi Hermione magari quando vedo il troll si mette la difensiva, fa vingardome leviosa, non leviosa e però io quando vedo queste cose qua mi emoziono e vi voglio comunicare questa emozione Anyway, io vi avevo detto tipo nell'ultimo video che avrei provato la configurazione con Marcus e credevo che le cose migliorassi, in realtà questa volta sono peggiorate, non sono peggiorate fino al punto che ho perso però sì All'inizio io ho visto tutta questa roba attiva e ho detto ok, con tutta questa roba attiva ci potrebbe anche stare che Marcus non lavora bene, anche perché Marcus è basso, appena 200%, quindi 65.7 è la prima e 65.7 è rimasto però mi sono andato a chiedere ma quanto punti di difesa diciamo, quindi corazza, deflessione scudo e evasione c'ha all'adore con tutta sta roba attiva e quindi sono andato a riprendere la formula che approssima la funzione di mitigazione e mi è uscito questo risultato molto strano all'inizio ma poi confrontandolo con il risultato pratico allora ho capito se per l'esploratore, la corazzata e l'intercettore il valore massimo che si può raggiungere è veramente 71.20 per lasciare stare che per l'intercettore esce un grafico di una funzione così strano ma c'entrano i parametri di input per quanto riguarda l'attacco quindi prendetelo come buono all'inizio ma quello che conta è per x tendente a infinito dove x sono i parametri di difesa dell'avversario, del target bene, se per le navi di battaglia il valore massimo di mitigazione è 71.2 per la laminatrice non è 71.2 ma è 65.6 diciamo 65.7 che è lo stesso risultato che ho avuto sia non usando Marcus infatti se voi fate questo calcolo molto molto semplice 67.000 diviso 103.000 vi esce ancora 65.7 quindi nonostante tu ci possa mettere qualsiasi cosa contro l'adore che c'ha una merida nel 45 con tutte magari le ricerche di mitigazione fatta non puoi scalfire il valore di mitigazione che si ha nello scontro questo scontro è andato molto male anche perché il numero di colpi critici che a lui ha potuto fare era molto superiore tipo 11 critici prima contro i 16 di adesso che in abbinamento all'aumento dell'attacco cosa aveva lui? aveva abbinamento delle armi e penetrazione vabbè questo qua non fa non gioca un ruolo importante quello che gioca un conto sono il danno delle armi che grazie a questo e lui faceva non lo sono segnato invece di fare e faceva con questo sconto faceva un critico di in media 950.000 mentre nell'altro non ho il rapporto ma ancora il cvs arrivava tipo 880 890.000 quindi voglio dire ci sono 70.000 appunti in più in media di critico di punti sul danno critico siccome ce ne sono stati 5 in più siccome poi mitigavo di meno io mitigavo il 67,7% e ci sono stati quindi quasi vicino a esplodere quindi la prossima volta che incontro all'adore equipaggio diciamo standard mio con 7 di 11 e 5 di 11 con kirk come quello di prima perché comunque la sua evasione non cioè la sua mitigazione diciamo totale di mitigazione non si scalfì secondo me neanche con la corazzata si riesce a scalfire perché comunque ZOO ZOO che dovrebbe essere questo sì e con questo 300% di di bonus che va alla mitigazione praticamente sovrasta a qualsiasi cosa tu ci metta ci metta quindi la corazzata si è meglio migliore perché fa più danno 9 colpi come detto prima rispetto ai 6 però la mitigazione è comunque quella non non cambia ne sono molto sicuro cioè non al 100% l'unica cosa sicura al 100% sono i debiti come si dice i debiti le tasse però sì io diciamo continuerò a usare le enterprise perché purtroppo solo le enterprise tra l'altro come ho detto prima io stavo aspettando l'evento in cui si dovevano spendere i credit i materiali e c'è questo però diciamo con tutti i minerali che tengo io non cioè potrei entrare in classifica ma sicuramente non potrò sbloccare questo questo personaggio qua che è buono però diciamo mi mancano gli altri due però intanto si deve cominciare da qualcosa e quindi nonostante io non riesca a fare a arrivare al primo perché quanto è 3 milioni e mezzo qui ha aumentato questi si stanno proprio sbizzarrendo vediamo se almeno riuscirò ad entrare in un posto almeno la metà quindi diciamo terzo diciamo fare 4 quinto 6 10 magari io ci penserò io già so quante quanti punti posso fare con i i miei materiali non ve lo dico perché altrimenti questo qua non mi vede non io so che io faccio video però non lo vedrà nessuno e poi anche se lo vedrà qualcuno non è che c'è una comunità così stretta dal punto di vista delle comunicazioni dice ma attenzione che Scipi può fare mille punti quindi state attenti che altrimenti questo qui vi fa un balzo ingressivo perché vi toglie fuori però speriamo di entrare in classifica in un posto interessante tra l'altro poi hanno messo pure il l'event store legato ad Halloween fa proprio schifo sono personaggi che diciamo non servono uno peggio dell'altro l'unica cosa buona è che se diciamo siete nella stessa situazione di Alador e vi manca un ufficiale dei ponti inferiori e allora vi conviene sbloccarlo io sinceramente non so neanche come spendere questo perché quello che diciamo io volevo continuare a a far crescere che è Dvana non ce la faccio non ce la faccio ottenere gli altri i frumenti che mi mancano perché me ne mancano 80 per 6 quanto fa 48 480 mila e siccome fra due giorni questo si chiude non arriva ad aumentare la sua abilità io diciamo vi inventerò un modo per spendere questi crediti perché altrimenti si perdono e poi ovviamente questi non servono a niente questo soprattutto questo lascia il tempo che trova e questo pure lascia il tempo che trova gli avatar non proprio 0 0 e quindi diciamo se c'è qualcosa interessante vanno buttati comunque vanno buttati e non non ve li tenete perché diciamo io mi sarei aspettato che avessero avessero avrebbero di dove stanno qua dove stanno questo qua è altro forse altro dove stanno questo qua il tribolo affamato che era un oggetto di gioco di Halloween forse anche l'anno scorso c'era questo io mi sarei aspettato un evento uguale a quello e in realtà ne ho messo un altro e io ne ho 15.000 in quel momento non le ho spesi perché comunque c'erano l'esperienza c'era l'esperienza con il Borg almeno il Borg lo lo ripropongono con lo stesso con lo stesso oggetto di gioco quindi diciamo non vi conservate questi oggetti perché poi veramente li cambiano e li perdete li perdete tanta fatica per fare l'evento magari avete speso un sacco di tempo poi non li potete utilizzare quindi mi dispiace se qualcuno si sente risentito per tutti gli attacchi stupidi che sto facendo ma in qualche modo devo giocare mi scoccio di andare a minare i dati l'isogeno e quindi io rubo l'isogeno e dati alla gente così e soprattutto per fare questi test non è che li posso chiamare a uno facciamo questo test poi rimane lì e niente è questo quindi un'errata corrige sulla presenzione massima di medicazione che non è 71 per la survey ma è 65,7 buono a sapersi quindi e quindi niente un saluto da Scipio e alla prossima